Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare tutte queste lacrime di larva quindi inizieremo prima dal punto dove abbiamo iniziato il nostro lunghissimo viaggio quindi dirigetevi qui in questo punto, dobbiamo solamente dare un colpo a quel cristiano che si trova là sopra e si trasformerà in un grosso urso, ok? eccolo là, una volta ucciso questo urso ci tropperà così la lacrima di larva, state a vedere ok, una volta ucciso l'urso, dirigiamoci qui al villaggio è proprio qui dove stanno tutte queste persone che stanno chiedendo aiuto e stanno morendo non possiamo farci niente perché non lo so, una maldizione che ha colpito questo villaggio qui addosso a questo cadavere c'è la lacrima, ok? poi un altro posto dove cercare qui al lago, mi raccomando, qui dovete ammazzare una ragosta gigante quella ragosta bella buona, quindi una volta uccisa si trasformerà in un essere ancora più brutto, ok? adesso vi spiego dove andare ok, dove ho messo il punto? qui ci dovrebbe essere una grande ragosta, uccidetela, si trasformerà in un essere ancora più brutto e niente, poi vi dropperà la lacrima della larva un altro posto qui è la capanna dell'artista, recuperate questo dipinto perché dobbiamo darlo a un fantasma seduto su una setia che si trova proprio qui proprio qui quindi che facciamo? andiamo qui dove sta il fantasma di Loretta andiamo per le tre sorelle, giriamo a destra ho velocizzato il video per farvi capire dove è esattamente questo tizio oh bella questa cosa oh però ok non ho mai scoperto, cioè non ci sono mai stato in questo posto quindi proseguendo sempre più avanti alla vostra destra dove sta questo cimitero c'è il fantasma del cristiano sulla sedia ci dropperà così la sua veste e la sua lacrima di larva ok un altro posto invece dove cercare questa volta dobbiamo sempre dare un colpo a questo cristiano e lui si trasformerà in un troll gigante ok 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 dove stanno le tombe ok là sopra dovete colpire quello speciale quello che c'ha un bel vestitino addosso ok adesso vi faccio vedere eccolo c'è il cappello quindi colpitelo si trasformerà così in un troll madonna già 4200 di danno con la fiume di sani ok eccola qua ora un altro posto dove cercare è qui proprio qui alle rovine sembra la stessa cosa diamo un colpo a quello con il cappello che sta seduto a terra e sta chiedendo aiuto lo colpiamo esatto lo colpiamo non lo aiutiamo e si trasformerà così e si trasformerà così in un leone eccolo qua bello questo effetto che hanno aggiunto bellissimo cioè immagina se vuoi cazzacciare con un tizio come quello la terra mani nude e poi alla fine esce fuori questo leone ok qui stiamo alla villa vulcano alla via della iniquità qui sempre la stessa cosa colpiamo il tizio e questa volta si trasformerà in un verme gigante da alto 4-5 metri ok io già l'ho ucciso tanto tempo fa quindi vi ho mostrato dove è il posto ok vi ho mostrato anche come fare colpitole e si trasformerà così in un grosso verme ora direggiamoci qui alla terra dei giganti questa volta ragazzi è molto pericoloso perché quest'orso non muore quindi non ho perso il mio tempo a farlo fuori quindi voi che fate dirigetevi qui questo punto ammazzate uno di quei tre quello seppellito nella neve si si ce ne sono tre questo quest'altro è quello seppellito nella neve eccolo che si trasforma in un grande orso quindi ragazzi buona fortuna già ora andiamo sottoterra al fiume questo è il posto qui invece non dobbiamo uccidere nessuno dobbiamo solamente acquistare una lacrima di larva presso un mercante vende anche le spade cioè la chiave tra spade e pietra vende se vi interessa e la chiave la chiave un cliente Buongiorno, fino alla prossima Buongiorno, buon cliente? Buongiorno, buongiorno Acquista, acquista, acquista Compra, compra Un altro posto invece è a Nocron Sì, Nocron, città eterna Poi andremo a Nocstel Qui nella chiesa Troverete un cadavere Addosso a questo cadavere c'è la lacrima di larva Qua Ok Usciamo da questa chiesa Scendiamo qua sotto Proseguite da questa parte perché Più avanti c'è il boss della lacrima riflessa Quindi qua ne troverete più o meno due Allora, una la troverete qui Esatto, qua E un'altra là dentro Lì se volete affrontare la lacrima riflessa Io vi consiglio di battervi a male nude È più bello Ci provai una volta Ma non è finita bene Eh, cioè, non è finita bene Mi tropperà la lacrima di larva E la sua cenere Dello spirito, capito? Poi sempre qua E i boschi ancestrali Perché devo saltare sul tetto Proseguite da questa parte Il suolo consagrato alla notte Qui invece ne troveremo parecchie Quindi dobbiamo solamente distruggere delle palle Che ci inseguono Una Due Due Ok E poi un'altra Stannock stella E poi abbiamo finito Ne abbiamo trovate parecchie E poi abbiamo finito Ok ragazzi Siamo pronti per l'ultima destinazione A nox stella Qui Proprio qui Ci sono parecchie Lacrime di larva Sempre sconfiggendo alcune Palle Che ti inseguono Ah se vi interessa Di livello 10 Non so non mi ricordo Fate voi Ecco la La palla demolitrice Con quattro colpi Della comoda Un'ottona E la butto giù Ah più di quattro Eh se esce Ok Ah non c'è troppato la lacrime Oh va bene Va bene Un'altra Invece la troviamo qui Sì sì Proprio lì Nel baule C'è qualche Pianta Mi sembra Forse è quella La pianta di livello 10 Dai che ci ha troppato La lacrima di larva No Neanche lui Forse a voi La tropperà E come ultimo punto ragazzi È qua sopra Qua sopra Ce ne sono parecchie Di lacrime C'è anche la palla Quindi una volta Sconfitta questa palla Vi tropperà La lacrima di larva Quindi io spero tanto Che questo video Vi è stato utilissimo Dove trovare tutte queste Lacrime di larva Io vi consiglio Di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina E di non perdervi Altri tutorial Su Welder Link Perché se vi interessano Ce ne sono Più o meno 84 tutorial Su Welder Link Su come trovare Pianti Pietre da forciatura Tutte Armature Spade Esplorare nuovi post E sconfiggere Boss Veramente Impossibili Sia da trovare Che da sconfiggere Quindi Guardatevi uno dei miei tutorial E capirete subitissimo Quindi io Vi consiglio Veramente Di iscrivervi E ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Ma questi non muoiono Sponono dappertutto Ecco la palla Dai Un solo colpo Mamma mia La sopra invece Non so cosa c'è Non lo so Non mi ricordo Ok L'abbiamo Ah eccola Eccola C'è troppato la lacrima Quindi ragazzi Io vi saluto Ciao Ciao